buongiorno a tutti oggi ci troviamo a monopoli in una posizione ben servita e vi proponiamo in vendita un accogliente appartamento di tre vani completamente arredato e dotato di accessori barcando la porta d'ingresso troviamo la zona living uno spazio confortevole e luminoso ideale per momenti di relax e convivialità ed un ampio balcone esterno dal corridoio accediamo in un'ampia camera da letto con balcone privato perfetto per godersi momenti di tranquillità una cameretta ben illuminata e versatile ideale anche come studio un bagno moderno e funzionale per soddisfare le esigenze quotidiane più un ripostiglio e lavanderia spazi dedicati per organizzare al meglio la casa completa la proprietà una cantina di circa 11 metri quadri ideale per riporre oggetti e attrezzature veniteci a trovare contattateci subito saremo lieti di mostrarvi dal vivo questa splendida casa ciao alla prossima